A Proda per la prima volta a Portici il progetto Campus 3S Salute Sport Solidarietà realizzato da Campus Salute Onlus dell'associazione Sport Form. L'iniziativa presentata questa mattina nella sede del comune coniuga una serie di attività mediche e sportive con il fine di raccogliere fondi destinati alla ricerca. Da venerdì 18 e fino a domenica 20 marzo la palestra intera area del centro dell'istituto Don Bosco Melluni saranno trasformate in un grande villaggio di prevenzione e lo svolgimento di numerose attività medico-scientifiche e sportive. Come conferma il sindaco Nicola Marrone. Ritengo un'iniziativa molto valida che coglie proprio il segno di quella che è la necessaria sinergia che deve stabilirsi tra le istituzioni e il mondo delle associazioni. Quel mondo delle associazioni che porta quello spirito di innovatività e anche quella buona volontà che serve a me per sopperire a volte a quelle che sono anche delle difficoltà organizzative della pubblica amministrazione. Quindi noi ringraziamo questi amici che sono venuti a proporci questo percorso e ovviamente gli abbiamo dato piena disponibilità perché non era un nostro dovere, era una naturale scelta. E quindi voglio soltanto invitare la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa e quindi di essere presenti perché è chiaro che poi insomma la vera vita, la vera forza di queste iniziative è la presenza delle persone. Nella mattinata di venerdì le visite gratuite interesseranno i ragazzi dell'istituto e il personale scolastico. Nel pomeriggio saranno aperte all'intera cittadinanza. Grazie alla collaborazione con CRIUV e CRAS sarà allestita anche un'area dedicata alla prevenzione per i nostri amici a quattro zampe, ma anche tanto sport come sottolinea il presidente del comitato organizzativo, l'avvocato Tommaso Mandato. Siamo qui nella seconda tappa della stagione a Portici, sono particolarmente grato, felice.